Colpo di scena per l'isola dei famosi. Una nomination che non si sarebbe aspettato nessuno ma che molti avrebbero voluto vedere. Dopo ripetuti batti vecchi tra Simona Ventura, e Jonas Berami, li vedremo in nomination, quindi che vinca il migliore. Molti sono i fan che tifano la regina della tv, ed in molti tifano invece, il bell'attore del segreto, uno fra tutti è il suo amico Bosco Cobos, che sta facendo impazzire il web con i suoi interventi in trasmissione. Durante l'ultima diretta infatti, mentre il naufrago Jonas stava annunciando il concorrente che avrebbe nominato, Bosco ha preso la parola, mandando un forte messaggio di affetto, incoraggiando l'amico, di continuare ad essere se stesso, aggiungendo, gli italiani apprezzeranno la verità e tu sei la verità. Il tutto è accaduto al centro dello studio, vicino alla conduttrice Alessia Marcuzzi, che guardava in credula Bosco, che a fine messaggio ha fatto una giravolta su se stesso, poiché era molto eccitato dalle sue parole arrivate in Honduras.